Un passo falso fatale che adesso rischia di compromettere seriamente la rincorsa verso il primo posto. Il Biceglie cade ancora una volta contro il Borgo Rosso Molfetta. Dopo il KO rimediato al Ventura, ecco il 3-1 del Poli. Mai del resto la formazione nerazzurro-stellata aveva incassato così tante reti in una singola gara di campionato nel Gironia di eccellenza. Il Manfredonia, nel frattempo vittorioso nel derby di Capitanata contro il Sansevero, vola a più 6. Biancorossi che si portano in vantaggio alla prima occasione utile. Al 26esimo a sbloccare il risultato è Sallustio. Cross chirurgico da sinistra in area di Vitale, quindi inserimento perfetto che sorprende Tarolli, immobile nella circostanza 1-0. Il raddoppio giunge nella ripresa al 46esimo e arriva con uno splendido aerogol di Vitale. Gran conclusione dalla distanza, una gemma che si infila all'angolo del portiere ospite 2-0. I ragazzi di Passiatore, accusati i colpi, non ci stanno e allora si rimettono in careggiata con diritto. Ciò avviene al 59esimo. In principio l'azione parte da Bonicelli, lancio in profondità per Doucoret, che viene chiuso, ma poi sul pallone si avventa l'esperto Bomber che gonfia la rete. 2-1, gara riaperta anche se per soli 10 minuti, perché al 69esimo c'è il calcio d'angolo in favore del Borgo Rosso, palla in area e Zuccata vincente di Conte per il 3-1 finale. Biancorossi ora a quinti a 29 punti, Biceglie fermo a 43.